La Relicat è una cooperativa sociale di tipo B che nasce nel 1981 come cooperativa di tipo A. Poi, grazie appunto al lavoro delle persone e ai prodotti che si realizzavano, c'è stata la possibilità di entrare nel mercato e quindi di trasformarsi da A a cooperativa di tipo B e cominciare a produrre e vedere quello che si stava facendo all'interno della cooperativa in collaborazione insieme a persone diversamente abili. Roberto è nella cooperativa GARD? Allora, io ho iniziato a lavorare e sono entrato all'area del 17 giugno in decorenza data a partire dal 1986, avevo 28 anni d'età e adesso ho già ben 60 anni con il 6 e lo 0 e da ben 32 anni qui presente alla cooperativa Relega da quando è stata fondata nel 1981 e come impegnatore generico sociale di Ilwey nel settore di legatoria e questo lavoro mi appassiona moltissimo da ben 32 anni qui presente alla legatoria. Grazie, ci riallacciamo a tante cose che sono state dette qua oggi, allora dall'antropologia al tipo di lavoro, insomma alla conservazione di un lavoro che è quello della legatoria, che è un sapere molto antico e che all'interno della cooperativa è stato sempre mantenuto perché è uno dei lavori in cui le persone trovano... Grazie. Grazie.